Chiuso da più di due anni, evidentemente le cose sono state lasciate là, c'è l'impiantistica anche da sistemare e quindi abbiamo bisogno del sostegno di tutti i volontari che vogliono darci una mano. È questo l'appello per il Tempio Internazionale del Donatore di Pianezze. Un appello che arriva all'indomani dell'assegnazione dei tre premi economicamente consistenti da parte del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Anche il Tempio è stato segnalato tra i luoghi del cuore, ma non abbastanza per ricevere quel sostegno economico importante per concludere l'ampia opera di ristrutturazione fatta finora grazie alla generosità diffusa. Resta la soddisfazione per aver ottenuto quasi 7500 preferenze, ponendosi al 42esimo posto nella classifica nazionale, al nono in quella dei luoghi sopra i 600 metri e primo nella classifica del Veneto. Noi abbiamo colto questa raccolta di voti, ovviamente vuol dire che il Tempio ha un significato per i cittadini veneti e non solo. Archiviato il risultato, ora si pensa alla riapertura. Nel mese di marzo sicuramente che diventi di nuovo operativo, se non altro al culto. Poi un po' più avanti, verso l'estate, abbiamo intenzione di fare una celebrazione per rinaugurarlo in maniera ufficiale, con un po' di festa, con un po' di comunicazione, con un modo di stare insieme, tipico dei donatori in generale, ma anche dei cittadini amanti della montagna. Grazie a tutti.